Il nuovo capo della polizia è Lamberto Giannini. Il Consiglio dei Ministri lo ha scelto per sostituire Franco Gabrielli, nominato dal governo Draghi sottosegretario alla sicurezza con delega ai servizi. 57 anni, nato a Roma, Giannini lascia il posto di responsabile della segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, un lavoro a stretto contatto con Gabrielli. Giannini ha guidato per anni la Digos di Roma, esperto in antiterrorismo interno e internazionale, ha partecipato fra le altre cose agli arresti dei responsabili degli omicidi d'Antona e Biagi. La nomine è venuta su proposta della Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese in virtù di un curriculum di eccellenza, ha commentato la titolare del Viminale, e di un apprezzamento sulle qualità personali e professionali condiviso a tutti i livelli istituzionali, che la rendono ancora di più solida garanzia per i cittadini e per le forze di polizia.